i famosi fuori onda, eccola. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui. Allora, io mi chiamo Lodovica Cima e faccio l'editor, che parola strana, nell'editore, l'editore è più facile da capire perché è quello che ha una casa editrice o dirige una casa editrice. L'editor invece è un po', come dire, la tata dei libri, quello che si prende cura delle storie soprattutto, che arrivano in casa editrice e le accompagna fino a che queste diventino libri. E oggi sono qua con un autore che produce storie, crea storie da tantissimi anni. Una specie di giocogliere delle parole, mi piace dire, perché lui gioca veramente tantissimo con le parole. Io spesso spiego che i pittori usano il colore con i pennelli, gli scrittori invece usano le parole, le devono manipolare, scolpire, devono imparare a usarle come se fosse una materia grezza per farci entrare nelle loro storie, per farci divertire. Ora, con l'editore Pelledocca, di cui io sono editor, questo signore, che vedete qui, ha scritto due libri, che sono la piccola mappa delle paure, scusate, sono... e Vedonero, che è quello di cui cominciamo magari a parlare oggi. Cosa dice Andrea? Ma certo, noi parliamo di quello che tu vuoi. Anch'io ce li ho tutti e due. Eccoli. Uno e due. Guarda che coincidenza, neanche se ci fossimo preparati. Allora, intanto sono due libri illustrati, possiamo dire. Noi e me... Ci sono tante parole, ecco giusto, Andrea fa anche l'illustratore, quindi qualche volta si diletta a illustrare. Qui invece le illustrazioni accompagnano, in modo anche un pochino discreto o ironico, le storie di Andrea. Allora, qui l'editore si chiama Pelledocca, intanto, tanto per cominciare. Già come già un po' di parole. È una parola che indica che è un editore che si occupa di storie che fanno venire la Pelledocca, storie da brivido, quindi gialli, thriller, mistero e cose un po' di paura. La piccola mappa delle paure è il primo libro che abbiamo fatto, quindi Andrea ci ha proprio aiutato a capire di che cosa volevamo parlare, di che cosa volevamo... È come fare un viaggio, no? Prima ti prepari la mappa per sapere dove andare. Esatto, prepari la mappa per sapere dove andare, per fare un po' chiarezza sul percorso, eccetera. E poi, invece, questa volta è andato su un concetto, una roba strana il concetto, no? Non spaventiamoci. Il concetto di nero. Che cos'è nero? Quando noi pensiamo al nero, cosa pensiamo, Andrea? Ah, io penso alla notte. Che però non è nera. La notte non è... Da qualche secolo non è più nera. Più o meno da quando abbiamo l'elettricità, ma un po' anche prima. E comunque, sì, perché c'è la Luna, ci sono le stelle, il nero assoluto sulla Terra credo che non esista proprio. C'è nello spazio, invece. Al di là dell'atmosfera, so che gli astronauti hanno la fortuna di vedere il nero assoluto. E il nero più nero del nero, mi dicono i miei amici astronomi o astrofisici, sono i buchi neri. Infatti, una delle storie dentro nel libro parla dei buchi neri. E un buco nero è un posto dove la luce non riesce a uscire. E quindi, se non esce la luce, la luce è nera davvero. Anche adesso non so come l'interfaccia che vedono gli utenti. Però io vedo uno schermo nero intorno a noi. Ecco, questo nero non è per nulla nero. È un grigio scuro, diciamo. Però non siamo abituati a parlare del nero. Però il nero sono tante cose. Pensa che dal punto di vista dei colori, a parte che tu hai detto che abbiamo fatto un libro per vederci chiaro e poi che ci abbiamo visto chiaro, abbiamo fatto un libro sul nero. Esatto. Quindi, capito? Carino, no? Ci piace giocare. C'è il nero chiaro, il nero scuro. Il nero, dal punto di vista dei colori, quelli che si chiamano pigmenti, quindi colori tipo le tempero, i pastelli, il nero è la somma di tutti i colori. Cioè, se io voglio ottenere il nero, devo usare tutti i colori e metterli insieme. Provatevi voi quelle tempere che avete a casa. Fate un bel pasticone. E così le mamme sono contenti. Esatto. E poi lo fate sulle pareti bianche. No, ecco, sulle pareti magari no, però nel plattino si possono utilizzare tutti i colori e vedere chi ha creato. Viene un quasi nero, eh. Viene un quasi nero, perché ecco, il nero assoluto è molto difficile. Tant'è che c'è anche il colore nero già di fabbrica, perché è più comodo. E mentre con le luci, le luci è il contrario. Il nero è dove proprio non c'è il colore. Infatti, di notte, se si spegne la luce, diventa nero. Le due cose poi sono... Quindi il nero è tutto e niente. È una di quelle belle cose che sono sia una cosa che il suo opposto. E c'è già un bel po' di gente. Guarda che bello. C'è già un bel po' di gente. Alcuni li conosco, è tipo Pietro. Carlo è da anni che non si svegliava a quest'ora del mattino, l'ha fatto apposta. Io sono molto grato a questa gente che si sveglia così presto. Bravi, bravi. Ciao Silvia, Marcelli, sono contenta che sei qui a ascoltare. Bene. Dopo vi paghiamo un caffè a testa. Venite tutti qui e tanto oggi si può... Però è difficile presentare questo libro, perché è un po' strano. È un libro che oltre che da leggere è da usare, se mi permetti, perché ti spunzecchia su certe idee che magari avevi un po' abbozzate e questo libro ti aiuta a svilupparle, perché qualche storia piccola o qualche cosa piccola che c'è scritta qui dentro serve a noi per pensare, per costruire, non dico un prosieguo, ma qualcosa di nostro in più. Sì, allora ti dico come faccio io. Beh, tu lo sai, però lo dico ai ragazzi presenti. A me piace scrivere storie brevi, un po' perché non sono tanto capace di scrivere storie lunghe, mi perdo. Marco è col telefono del papà. La figlia, Marco deve essere il papà. Ah, ok, va bene, è sincero. E comunque le storie brevi sono brevi, non basta una storia breve di poche pagine per un libro. Quindi quando mi viene un'idea la scrivo e la metto lì. E quindi quando tu mi hai detto, c'era un altro libro dopo il primo che abbiamo scritto, ho visto alcune cose, ho visto se c'era modo di metterle insieme con qualcosa che avesse senso con la tua casa editrice, quindi qualcosa che stesse un po' nell'ombra, al buio, perché tu parli di paura, e quindi più buio e più ombra del nero cosa c'è. Alcune ne avevo già, perché sai che a me piace sia inventare le storie sia raccontare le storie degli altri. Per esempio una che è davvero un gioco di parole, ed è una storia vera, è la storia di Rosa Parks, che si chiama Rosa, però è nera, è nera di pelle, ed è salita su un autobus giallo, infatti il titolo del racconto nel libro è l'autobus giallo. Quindi abbiamo una signora Rosa che è nera in un autobus giallo, dove sale un tipo bianco, che vuole prendere il suo posto solo perché lui è bianco e lei è nera, e lei le dice di no. E da lì, insomma, la storia dell'uomo, anche negli Stati Uniti, la storia dei diritti civili, ha avuto un bel lancio. Per cui mi piace mettere delle cose anche serie, e sono serie per tutti, e non c'è un'età per cui si può cominciare a raccontare le cose serie. Poi ci sono anche delle storie più intriganti, più divertenti. C'è quella del cimitero Felice che io conosco da quasi vent'anni. Eh dai, raccontati. Perché in Ungheria, in Romania, c'è un paesello dove negli anni 30 il custode del cimitero, che era stufo di vedere tutte le persone triste, beh uno è triste quando va al cimitero, e allora, siccome lui faceva anche il faligname così per diletto, ha iniziato a intagliare e a dipingere le croci, ma di colori sgargianti, di rosso, giallo, blu, verde, e quel cimitero è coloratissimo ed è tuttora così, tant'è che si chiama il cimitero Felice, dove vai lì e dici, sono felice, forse sei felice di non essere tu lì dentro, non lo so per cosa sei felice, però di qualcosa sarai felice. E siccome tutti i colori fanno il nero, e il nero si associa al funerale, insomma uno si mette il cappotto nero, però il cappotto o la giacca nera la metti anche se vai a teatro, vedi che il nero è anche elegante. Il nero è questo e quello. Il nero è tantissime cose in effetti, se ci mettiamo un po' la testa e ci pensiamo. Questo libro racconta 90 cose di nero, ma forse i ragazzi, i bambini che hanno voglia di leggerlo e di assaggiarlo, perché è un libro che si può solo assaggiare, non leggere. Come il cioccolato nero, ti assaggia anche lui, vedi che è anche tutto nero. Eh sì, magari loro hanno la loro storia del nero, chi lo sa, è proprio un libro che serve da trampolino. Vedi, pagina 67, comunque cioccolato nero, perché lo portiamo dietro da tutte le parti. L'ho segnata anch'io quella del cioccolato, ma vuoi leggerne una che ti piace? Allora, il cioccolato è un po' lunga. Eh sì. Allora, mi piace, ne piace uno che la leggo spesso, quando adesso io sto facendo quello che avrei fatto lo stesso. Io in questi giorni, in questi mesi, anche tu, saremmo andati in giro per le scuole. La primavera è questo che si fa noi scrittori, si va in giro a incontrare ragazzi. Quest'anno non si può, allora io lo faccio lo stesso, e ogni giorno sono in una scuola diversa, stando seduto qua, dove sono adesso. E spesso leggo questa qui, che è la mosca bianca. In un libro di nero, scusa, però le mosche sono nere, quindi la mosca bianca, e poi lo sapete che la mosca bianca non è una mosca, è un modo di dire, come se io ti dico, Ludovica, che sei una volpe, non è che ti cresce la coda. Ti ho solo detto che sei una ragazzina astuta. Quindi la mosca bianca è questa. La leggo, eh. Le mosche sciamarono in volo, dopo aver trascorso il pomeriggio, su una grande cacca di mucca, molliccia e puzzona, che era una meraviglia. Quella è casa loro, quindi anche loro le mosche devono stare a casa e stanno lì. Si sarebbero sgranchite le alette per un po', bronzando intorno alle narici di qualcuno, saltellando su una fetta di formaggio, e cercando sempre un nuovo modo per infastidire la gente. quando notarono qualcosa di chiaro che si muoveva sul petalo di un bucaneve. Era difficile da vedere, ma guzzando bene la vista fu impossibile non riconoscere tra gli stami e il pistillo una mosca come loro, con le zampette, il coro piccino, le ali, con la non trascurabile differenza che lei era bianca e loro nere. Chi sei? L'apostrofo subito una. E sono una mosca bianca, esclamò lei sorridendo. Forse non si vede. Ci fu un istante di comprensibile imbarazzo, e una mosca bianca quelle non l'avevano mai vista, e per quanto ne sapevano, le mosche bianche non esistevano per nulla. E' impossibile, ribattei infatti un'altra. E' certo che sono bianca, insistette lei, candida come la neve e come questo fiore. Ma nessuno ci credette, e ci fu pure qualcuna che si lasciò scappare un sorriso ironico. Sono una mosca bianca anch'io, abbaiò ad un tratto un cane verde. sbucato da chi sa dove. Le mosche volarono via impaurite, poi si avvicinarono curiose. Un cane verde era una novità mai vista, più ancora di una mosca bianca. E figurarsi un cane verde che dice di essere una mosca bianca. Impossibile, esclamò di nuovo quella di prima. Ma una codata del cane la stecchi, e un morso dato all'aria gli fece inghiottire un paio di compagne. Sono una mosca bianca anch'io, esclamò un elefante rosa, che batte pure la zampa destra come quelli che battono il pugno sul tavolo, spiaccicando a ventiquattro mosche in un colpo solo. Le superstiti furono terrorizzate, ma di nuovo poi si avvicinarono in curiosite. Ciao amiche, salutò la mosca bianca, sempre appesa al suo bucaneve. Sono una mosca bianca anch'io, gracchiò una cornacchia che insolitamente bianca la era davvero, ma mosca mica tanto. Comunque battendo il becco sgranocchiò altre otto mosche, ma nessuno più esclamò impossibile. Lo sciame di mosche, ormai ridotte a meno della metà, come per incanto sparì. La situazione si era fatta davvero pericolosa, con tutte quelle mosche bianche in giro, che chissà dove erano state fino ad allora. Tornata la calma, trovarono rifugio su un grosso pezzo di sterco di cavallo, che è la casa di Vagadel al mare, dove si accomodarono e si sentirono subito a casa loro. È un mondo difficile, borbottò una prima di dare la buonanotte alle compagne, non ci sono più le mosche di una volta. E quindi questa è la mia storia dedicata alle mosche bianche. non ci sono quelle. Chi è che si sente una mosca bianca? Chi è che si sente una mosca bianca? Ogni tanto può succedere. Spero tutti noi, almeno una volta nella vita, di sentirsi davvero unici, che nessun altro è come noi, anche in una piccola cosa. Certo che vengo clarista, non so dove, ma... Ah, sì, certo, boh, fa via, per forza. È lì, devo solo attraversare due fiumi. Ma a proposito di mosca bianca, qui dentro c'è una mia esperienza da quando le poche volte che ho fatto il giornalista, perché una volta collaboravo con una rivista e intervistavo, facevo, e ho conosciuto un calciatore famoso che era stato campione del mondo nel 1900, credo 96. No, 96 è impossibile, semmai 98. Non so in che anno, comunque della Francia, si chiama ancora, è ancora vivo, si chiama Lilian Touram, ed è un giocatore nerissimo, ma nero, lui sì che è nero, ma nero, 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 capelli neri, pelle nere, ma nerissimo. E lui mi ha detto, nell'intervista, che ha scoperto di essere nero quando ha compiuto nove anni. E dico, ma scusa, la prima cosa era giallo. E ha sorriso. Invece lui è nato in Guadalupa, nei Caraibi, dove tutta la sua famiglia era nera, tutti i suoi amici neri, tutti gli abitanti neri, cioè non era uno diverso dall'altro, si sentiva come tutti gli altri. Un giorno la sua famiglia si è trasferita a Parigi. E a Parigi la gente è un po' di tutti i colori, come nelle grandi città, ci sono asiati, ci sono francesi biondi, francesi con i cappelli rossi, c'è di tutto. E un giorno lui aveva appunto nove anni, avrà fatto la quarta elementare, e un bambino gli ha detto, ma tu sei nero. cosa vuol dire il suo nero? E allora si è guardato allo specchio e ha visto la differenza con gli altri, perché a volte noi non notiamo le differenze con gli altri, perché non guardiamo gli altri. E allora lì si è sentito una mosca bianca, pur essendo nero. Vediamo l'acrostico nero per raccontare il colore nero. Lo faccio stanotte verso le due e mezza, ti chiamo Carlo, ti chiamo e te lo dico. È troppo presto stamattina, dai, non lanciarci queste cose. Prima devo andare sul dizionario a vedere cosa vuol dire acrostico. Sveva, che ha nove anni, magari lo sa. Sveva è una bella rosa rosa, sulla scritta c'è anche la rosa nera. Questo invece lo scopo... Ciao Sergio! Ciao Sergio! Quella della rosa nera l'ho scoperta grazie al nostro libro invece, perché esistono le rose nere, ma se andiamo a trovarle da un fioraio, sono per lo più blu scuro, viola scuro, quasi nere. E il quasi nero non ci piace, o è nero o non è nero. Ma come le hai raccolte tutte queste cose nere? Dentro in un file, in un quaderno, in una scatola? No, 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 io ho le mie cartelle nel computer, dove metto idee, e quando ho alcune idee sono simili, faccio una cartella nella cartella, cioè quella che si chiama sotto cartella. Ciao Rodolfina! Scusate, la rosa nera, vai! Ho scoperto che la rosa nera esiste davvero, nera, 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 ma viene coltivata solo in un paesino della Turchia, dove evidentemente o il clima, un microclima, o il terreno contiene delle sostanze che fanno sì che il fiore viene nero, ma nero, nero. Proprio così nero che non si può. Ciao Chiara Bertoncello! No, ciao Serena! Ma io conosco un famoso Bertoncello di Merano, è talmente famoso che ha fatto, era il mio compagno a scuola. Ah, ecco, quello che fa. Però non ha 10 anni, essendo noi compagni di scuola, non poteva... Serena ha 10 anni, potrebbe essere il suo papà, o il suo zio, chi lo sa? Il papà no, perché le figlie di Marco le conosco, però uno zio, o che ne so, magari semplicemente un'omonia. Va bene, va bene. Sono tanti bambini e ragazzi in ascolto con i genitori, e quindi facciamo un po' di casino noi che non siamo sveglissimi come voi, con i bambini, ma fa niente. Perdonati, perché è così. Senti un po', ma io avevo selezionato, posso leggerne una io corta corta? Assolutamente sì. Poi diciamo che i ragazzi che sono in... anziché salutare basta, no? Anche Fatima di Merano, qua è tutti di Merano, però io con Merano ho qualcosa a che vedere. Guarda che ha risposto, Bertoncello cugino di mamma. Cugino di mamma, vai. Non mi rinvoca più cosa stavo dicendo. Ah sì, se volete, anziché salutare basta, che comunque è bellissimo, se volete fare delle domande, basta chiedere, che ne so, il risotto del nero di seppia, la pasta con il nero di seppia come si fa? Noi rispondiamo. In questo caso rispondiamo con Lodovica, non io, però insomma... Ma insomma, ce la posso provare, posso provare. No, io invece... Il libro di Funio ha undici anni anche lei, la conosco, è una bambina carina, bionda con le trecce, sembra pipi calze lunghe. Ottimo, bene, sono molto contenta. Dunque, vi leggo il pezzettino piccolo piccolo per farvi capire come questo libro può essere un grande contenitore da cui voi tirate fuori le vostre storie la storia 19, perché poi sono tutte numerate, anche i numeri sono belli da vedere dentro nel libro, la storia 19 è la tribù dei piedi neri. Quando scende la sera e la luna si affaccia pallida dietro le rocce, allungando le ombre sul terreno, spuntano all'orizzonte le teste piumate di decine di guerrieri sic-sica della tribù dei piedi neri. Si avvicinano con passo leggero dentro i loro neri mocassini con le lance, gli archi e le frecce, galoppando senza sella sui cavalli appalusa. che tu sia bufalo o bisonte, coniglio o passante, l'unica tua speranza è correre. Eh sì, perché quella è una tribù che esiste davvero, ho dovuto studiare, qua mi sono informato ed esiste davvero, perché a volte noi conosciamo alcune tribù dal cinema e sono tribù che non esistono proprio, invece volevo essere sicuro, peraltro l'illustrazione di Anna Pini a questa storia è bellissima con le teste che spuntano c'è anche la storia che spuntano e vedi con tutte le teste che spuntano dall'erba perché poi loro stanno si muovono nella natura nei deserti americani con disinvoltura e spiano e sanno quando fare rumore, quando stare in silenzio insomma. Certo. Ma in questo video sapete quali sono? Sono bellissimi tipici di quelle praterie e sono quelli con le chiazze tutti macchiati. E gli indiani cavalcavano senza sella e tenendosi alla criniera. Anche lui libro c'è la storia più corta mai scritta. Ecco, dai, dai. E soprattutto per chi va a scuola e deve fare i riassunti. Fare il riassunto di questa storia è bellissimo perché già è, vi dico, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto parole più il punto finale. Il riassunto deve essere non più di sette sennò che il riassunto è. No. E allora parla del libro nero è la numero 46. Sapete che un libro nero è un modo di dire, no? Tu entri nel mio libro nero vuol dire l'elenco delle cose che mi stanno un po' antipatiche. Il libro nero è un posto dove metto dentro gli appunti sulle cose che non mi piacciono. Ma è un nome che si dà al libro nero perché la storia del libro nero dice così. Anche un libro nero ha le pagine bianche. Punto. Eh? Ragazzi. È bellissimo. Quando la vostra maestra vi dice Andrea Valente. Lui gioca. Vi ho detto che è un giocogliere delle parole e delle storie. Lui è capace di scrivere una cosa così piccola che a noi ci fa subito pensare a chissà cosa, no? E anche tutto. Intanto Chiara dice una cosa bellissima perché anch'io l'ho visto il video del backstage delle illustrazioni dove Anna Pini fa vedere come sono venute le idee come ha realizzato quindi ha fatto vedere il suo libro dei bozzetti che già immaginava l'impaginazione quindi le storie brevi in realtà hanno un vantaggio anche per chi le illustra perché può giocare con la forma delle parole con il numero e con tutto e ci ha lavorato quindi andatevela a cercare su YouTube si trova. È sul sito di Pelledocca Pelledocca Editore sulla pagina Facebook di Pelledocca Editore l'abbiamo scelta come illustratrice perché sapete che ogni storia ha il suo illustratore e l'editore deve pensarci un po' su prima di decidere a chi affidare una storia o un'altra e deve cercare quello più adatto o quello più adatta. Allora dopo ti dico una cosa su Anna adesso c'è una domanda molto interessante invece che prima che sparisca bisogna rispondere allora lo scrittore che sono io in realtà per rappresentare le paure era il libro prima di questo quello che abbiamo fatto vedere la piccola mappa delle paure dove sono 21 la paura del buio la paura dell'acqua la paura di cadere la paura del vuoto la paura di non essere accettati ci sono tante paure che ognuno di noi può avere non sono per forza le mie non è che io non abbia paura di niente però preferisco è più bello occuparsi delle paure degli altri almeno sono loro che ci frega è più divertente insomma è come se io scrivesse un'autobiografia non è nulla di interessante invece le storie degli altri sono più divertenti quindi sono andato a immaginare le paure degli altri però in realtà quando qualcuno scrive una storia anche se è una storia inventata che parla di gatti e di topi un po' mette le sue sensazioni e le sue idee per cui tutte le storie sono autobiografiche anche se non sono un'autobiografia quindi questa è una gran bella domanda il nero è vero che a volte non si associa con la paura e anche perché la casa di trice si chiama pelle d'oca è quella che ti viene o se ti butti nell'acqua gelida o quando esci dalla piscina con l'acqua fredda oppure se hai un po' di paura ci sta invece Anna Pini per chi di voi fosse nella zona di Pesaro a Pesaro c'è una libreria molto bella che si chiama le foglie d'oro dove tutte le pareti sono disegnate da Anna Pini con i ritratti degli scrittori che sono passati in quella libreria a fare degli incontri con le scuole e ormai ce ne sono tante saranno più di cento e ci sono anch'io in realtà un po' più giovane di adesso perché ormai quando mi ha fatto sarà passato qualche anno quindi è bello che abbiate scelto lei perché insomma già ci siamo incrociati in quella libreria e le librerie sono dei posti dove si conoscono i nuovi amici le persone insomma non è banale comunque abbiamo scelta prima di tutto perché ha un segno energetico abbastanza essenziale e quindi non volevamo qualche cosa di troppo statico troppo appoggiato là sulle pagine no? e poi perché ha il senso dell'ironia che è una cosa importantissima che vi accomuna il senso dell'ironia l'ironia è una parola un po' da grandi per i ragazzi che ci ascoltano che tante volte non si riesce a capire che cosa diavolo vuol dire ma è una cosa importantissima nella vita credo e è quella cosa quando ci prendiamo in giro senza prenderci in giro cioè io faccio una battuta su di te ma perché siamo amici no? allora uso l'ironia uso il sorriso e io faccio sempre questo esempio a me piace scrivere storie che facciano sorridere a volte fanno ridere però far ridere è pericoloso perché io non vorrei essere considerato ridicolo no? far ridere ed essere ridicoli insomma il confine è labile però una cosa ridicola non è positivo se io ti dico il tuo libro è ridicolo non è bello se invece il tuo libro fa ridere cioè è comico beh è una gran bella cosa solo che la comicità è più difficile io non ogni tanto ci si entra però essere sempre comici insomma infatti i grandi comici sono pochissimi invece sorridere mi funziona e funziona molto bene con i ragazzi perché il sorriso ti permette di affrontare tutti gli argomenti cioè prima abbiamo parlato di un cimitero no? e questo signore del cimitero felice è l'esempio tu puoi sorridere se vai a un funerale per dire e perché vuol dire che hai un bel ricordo della persona che non c'è più invece non puoi ridere a un funerale perché ti cacciano via no? ecco questa è la differenza tra il sorriso e la risata e a me piace che i miei libri facciano sorridere perché nel sorriso c'è l'inizio anche per un pensiero e è meglio pensare sorridendo anche ripeto alle cose davvero serie ci si può sorridere e tutti i miei libri anche quelli che parlano che ne so delle materie strane la storia ma anche l'astronomia a me piace giocare con le parole se no Carlo qua dice uso il verbo giocare che è tutto suo ma io gioco solo con le parole a me piace giocare con le parole per cominciare dei discorsi che siano meno lineari e quindi più divertenti è come andare in autostrada è diritta ma noiosa e io preferisco andare per le strade curve su e giù magari in ciampo magari esco di strada però è molto più divertente è ve l'ho detto che è un giocogliere delle parole a lui poi piace avere un ordine dentro ai libri che costruisce certo e c'è sempre qualche piccola cosa che non si vede che c'è ma non si vede per esempio in questo libro ci sono 90 cose perché 90 non 100 e non 101 le 101 cose da sapere prima di compiere 21 è un bel numero comunque anche 99 e di voi 99 e di 101 mi piacciono più di 100 perché 100 è troppo preciso il 101 è qualcosa di più 99 è ancora meglio perché è qualcosa di meno in questo caso 90 perché la casa editrice si chiama Pelle d'Oca è esatto Chiara si parla della paura e nella camala nella tombola anche i numeri e la paura fa 90 si dice quindi ho scelto di mantenerne 90 che sono comunque tante mi piace l'ordine per cui quando si parla di occhio nero ci sono anche la storia dopo sono gli occhi neri e avere un occhio nero è una cosa avere gli occhi neri e tutt'altro fa molto meno male avere due occhi neri che averne uno solo perché uno solo vuol dire che qualcuno ti ha dato un pugno o sei andato a sbattere e poi ci sono gli occhiali neri e le tre storie sono insieme perché stanno bene insieme e poi mi piace ogni tanto e qua però bisogna leggersi il libro mettere un elemento che c'era in una storia che ne so 50 pagine prima rimetterlo nella storia dopo per cui è giusto un modo per ritrovare il filo del discorso e in questo caso il filo rosso del libro è il nero che bello che il nero è un filo rosso un filo rosso di fatti abbiamo messo del rosso nella copertina e i colori che abbiamo usato dentro sono nero blu e rosso un blu non da nulla perché è il blu ciano che è il blu naturale è quello che si trova proprio in natura mentre il rosso non è il magenta è un bel rosso forte come questo che vede in sovrappressione Pietro ci saluta va a prendere a preparare la diretta per Dorothy e Alice ciao Pietro ciao ciao Piero buon lavoro anche lui c'è un grande affare benissimo qua da quando non abbiamo niente da fare siamo pieni di impegni sì è vero confermo perché una volta si pensava che fossimo impegnati e la gente non ci dava da fare adesso che la gente pensa che non abbia niente da fare ti danno tante cose da fare è bello ci sta speriamo che finisca però ci sta vediamo se c'è una domanda se no devi farmela tua oppure leggo io una storia io volevo leggere la prima eh dai perché la prima storia ha sempre il suo significato eh e la prima è ovviamente dedicata all'uomo nero che sapete che l'uomo nero anche lui ha un modo di dire non è nero l'uomo nero avrà qualcosa no e il titolo sembra pessimista ma si sorride lo stesso certo che si sorride non è pessimista è anche lì un gioco no se vedi nero però c'è chi vede rosa e peraltro questo libro è pronto da prima di Natale no il libro di Taitiro l'è stato scelto molto tempo fa e in questi giorni è perfetto perché la gente vede molto nero ma vedrete che tra un po' passa l'uomo nero una volta c'era un uomo nero era nero da testa ai piedi aveva la pelle nera i capelli neri gli occhi neri le sopracciglia nere spesso era di umore nero indossava un nero cappello gli occhiali neri una camicia nera con i bottoni neri una cravatta rossa rosso sangue e una giacca nera dei pantaloni neri un paio di scarpe nere e lucide sopra le calze nere un nero tabarro quando se ne andò si continuò a parlare di lui raccontandolo come l'uomo con la cravatta rossa avete sentito bambini come scrive questo signore questo signore usa ma di solito non si può fare o almeno ci insegnano che non si può fare cioè la ripetizione e ci dicono no non si possono ripetere sempre le stesse parole nella frase o in frasi vicine invece qui Andrea le usa un po' come una musica no? o come non ho più la maestra che mi corregge la maestra che ti corregge primo secondo te la usi come una musica è come se fosse una nota che ritorna ogni volta per ricordare a chi ascolta come deve essere questo uomo com'è questo uomo quante cose che lo descrivono e sono tutte un'attivistica comune un consiglio ai ragazzi che scrivono per forza a scuola quando non è impossibile fare le ripetizioni però quando le si fanno facciamo vedere che vogliamo farle davvero bravo se io scrivo due volte la stessa parola perché sono pigro e non mi accorgo che è la stessa oppure non voglio cercare un sinonimo quella è una ripetizione ma se io voglio sottolineare una cosa ecco che allora posso scriverla anziché due la scrivo quattro volte se la scrivo quattro volte non è più una ripetizione ma sono proprio io che sto sottolineando la parola in questo caso nero e se dico nero nero non è una ripetizione è proprio che io voglio far capire che è un nero molto intenso quindi quando faccio una cosa che è un errore perché è vero che una ripetizione il più delle volte è un errore beh io posso sbagliare se voglio ma devo far capire che l'errore è una mia scelta un po' come Cristoforo Colombo che ha fatto ci ha impiegato un po' a convincere la regina Isabella però ha detto è vero che si va di là però io voglio andare dall'altra parte non voglio sbagliare strada che poi non ha capito dove era lo stesso però non voglio sbagliare strada voglio semplicemente andare da un'altra parte o meglio andare nello stesso posto facendo una strada diversa se invece avesse detto vado in India e poi prendeva verso Occidente l'avrebbero preso per pazzo invece bisogna dirlo prima farlo capire perlomeno quindi il bambino Carlo dice che è un libro nero nero certo che è nero 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 come il caffè quando è buono nero 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 va bene no molto bene questo 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 libro poi contate quante volte la parola nero è stata scritta da Andrea quello lo posso fare non posso farlo adesso però dopo te lo dirò perché io ho il file quindi vado a vedere quante volte viene fuori me lo do adesso c'è scritto nero è interessante giusto per giocare con i numeri e con le parole le parole sono dicendo che sono 90 storie secondo me un buon 200 volte il nero viene fuori secondo me anche un po' di più forse eh sì 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 va bene sono molto contenta allora ricordo che veramente questo libro è un libro da assaggiare qui e là e da usare per farsi un po' punzecchiare la fantasia anche perché è fatto proprio apposta per spiccare da lì il volo verso storie eh più personali più così di espressione nostra ehm e poi è bello ecco a me piace anche tra i libri che leggo mi piace ogni tanto mi piacciono i libri di racconti che sono quelli che faccio scrivo anch'io e mi piace non andare in ordine è vero che questo è un libro come tutti i libri anche l'altro quello delle paure a me piace che sia tutto in ordine ma è vero che uno può leggerlo dalla fine all'inizio o aprirlo a una pagina qualsiasi leggere quello che c'è perché non perde quello che è successo prima non è un romanzo in cui ho bisogno che di seguire una trama che l'autore decide per me in questo caso posso aprirlo e leggerlo dove voglio il bello dei racconti è anche questo uno sceglie quello che vuole e poi ci sono racconti piccolissimi abbiamo visto quello di una riga eh sì oppure è comunque una cosa completa che ci crea l'immagine perché il racconto deve crearti l'immagine dell'ambientazione eccetera quindi fai il suo dovere eppure una sola riga tante volte quando faccio i laboratori di scrittura i ragazzi mi chiedono eh ma quanto devo scrivere tre pagine quattro pagine non è importante e lì è colpa delle maestre adesso ci saranno ci sarà qualche maestra in linea io poi sono figlio di maestri sia il papà che la mamma ma è vero e fanno bene a dire che voglio visto che ti do il tempo esprimiti bene cerca di trovare delle frasi occupa lo spazio che hai in realtà anche i giornalisti hanno quando devono scrivere un articolo hanno uno spazio ben preciso che devono riempire non possono scrivere di meno perché eh sono arrivati alla fine e quindi ci sta il lavoro delle maestre però questa cosa che sia obbligatorio ehm riempire la pagina ok a volte nelle storie non funziona ci sono esempi beh le favole di Esopo 3.000 anni sono tutti di 3-4 righe no infatti spesso nei libri moderni io ne ho fatto uno per esempio e vengono riscritte no vengono rese un po' più lunghe più scorrevoli perché sono davvero brevi la maestra di Esopo non era per nulla severa non gli ha mai detto scrivi di più forse perché lui incideva nella pietra anziché scrive sulla carta chi lo sa e allora ci impiegava di più dopo 4 righe aveva scritto in due ore però è vero non c'è limite e invece dentro il libro mi è piaciuto inserire e prima abbiamo fatto un paio di esempi i personaggi veri che hanno il nero dentro per esempio il portiere della nazionale della Russia degli anni 60 stiamo parlando di 60 anni fa si chiamava Lev Yachin l'unico portiere ad aver mai vinto il pallone d'oro era portiere sia della nazionale di hockey su ghiaccio che di quella di calcio e lo chiamavano il ragno nero perché aveva proprio l'uniforme si era sempre vestito totalmente di nero quindi maglia con le maniche lunghe nere il cappello perché teneva un cappello nero i guanti i pantaloncini poi aveva le genocchiere scure calze nere e quindi vedeva questa cosa nera che incuteva quasi terrore e pare che avesse le braccia particolarmente lunghe quindi da portiere faceva bene lo chiamavano il ragno nero e quindi ho parlato anche di lui ci sono molti personaggi cioè quello è la maglia nera la maglia nera piace un sacco visto che c'è un po' di gente di Pavia e questo lo so perché io ci abito vicino ho diffuso un po' la notizia di questo incontro ecco vicino a Pavia a Garlasco abitava e qua siamo a 80 anni fa quindi durante la guerra mondiale un signore che si chiamava Malabrocca Luigi Malabrocca e faceva il ciclista e la sua sfortuna è stata una che c'era la guerra per cui per alcuni ne sto parlando bravo Carlo ma sei troppo sto parlando bravo è tutto è tutto questo ragazzino qui si vede che è di Pavia perché questo ragazzino sa tante cose e lì la foto ha messo quella di Babbo Natale perché capisco però Babbo Natale è anche il suo rosso però il cammino dove scende è nero comunque il signore Malabrocca aveva la sfortuna intanto che ha perso un po' di anni di carriera perché c'era la guerra ma poi la seconda sfortuna che correva quando correvano due signori che qualcuno di voi ha sentito chiedete ai vostri bisnonni Coppi e Bartali sono stati due dei più grandi corridori per cui praticamente una volta vinceva Coppi e secondo Bartali l'altra volta vinceva Bartali e secondo Coppi e quindi di tutti gli altri il più bravo arrivava a terzo e a terzo che te ne fai cosa succedeva per esempio nel giro d'Italia vai Marco ciao come stai e brava la maestra Elisa succedeva che quando arrivavano al traguardo per esempio il giro d'Italia non c'era la tv ma c'erano i giornalisti che facevano le interviste e intervistavano chi arrivava primo nella tappa quindi o Coppi o Bartali chi aveva la maglia rosa quindi era primo in classifica quindi o Bartali o Coppi e basta e tutti gli altri allora siccome nei giornali bisogna riempire lo spazio uno un giorno ha deciso di intervistare l'ultimo dice vabbè povero sei arrivato l'ultimo ma non ti senti un po' una schifezza e l'ultimo era Luigi Malabrocca tanto è piaciuta questa cosa che hanno iniziato a regalare un salame all'ultimo ragazzi era appena finita la guerra e non c'era niente da mangiare se ti regalano un salame per te è come se ti regalano una cosa d'oro un pezzo di formaggio Luigi Malabrocca ha capito dico sai cosa faccio siccome primo non ce la faccio secondo nemmeno terzo non serve a niente sai cosa faccio arrivo l'ultimo così mi intervistano e mi becco il salame però non è facile arrivare ultimi perché se superi il tempo limite vieni eliminato quindi lui deve essere ultimo ma non così ultimo da essere squalificato e lui ha fatto tutto e lui nel 47 nel 48 è arrivato maglianera due volte l'ultima volta che ci ha provato per evitare di essere visto si era nascosto in un campo di grano in un covone di grano e siccome era un po' stanco si è addormentato e quando è arrivato al traguardo il traguardo non c'era già più hanno tolto le tribune e hanno detto vabbè Luigi Malabrocca vai a quel paese e quindi da allora la maglia nera non c'è più perché aveva un po' esagerato anche lui quindi è una storia secondo me molto bella e lui abitava a Gherlasco vicino a Pavia lui in Gimbalabrocca direi che con questa storia sul nero della maglia nera che non è per niente triste questa volta assolutamente no anzi possiamo chiudere la nostra lettura perché non vogliamo neanche leggervi troppe storie dovete leggere ma solo dirci cosa ne pensate soprattutto mandarci su Facebook tutti i vostri commenti che per noi sono preziosissimi certo allora vi dico cosa si può fare potete andare sul sito o sul sito sulla pagina Facebook della casa di Tri c'è Pelle d'Occa così vedete anche le altre cose che sono perché i libri non solo stanno bene per l'autore quindi a me piace tenermeli insieme ma anche nella stessa casa di tri i libri hanno senso uno con l'altro per esempio a me piacciono i libri ad elfi per dire libri dai grandi perché so che dentro trovo una certa narrativa e non altra quindi anche le case di tri hanno una loro personalità e potete poi trovare me sul mio sito il mio sito facilissimo googolate andrà valente vengo fuori io no c'è anche il centravanti di una squadra di calcio di Nola vicino a Napoli e un professore universitario di Torino che però credo insegna Copenaghen e poi c'è anche un poliziotto che ogni tanto che ogni tanto trovo che arresta qualcuno cioè andrà valente siamo in tanti però ci sono soprattutto io ho Facebook Twitter Instagram tutte queste cose moderne e ci si può scrivere non solo una prima la citata la storia di oggi io ogni sabato racconto una storia e la metto su tutti i social e chi vuole si può anche scrivere alla mail inglist quindi se volete la ricevete nella casella di post elettronica tutti i sabati infatti stamattina è partita e ah sì oggi è l'astronauta con l'apostrofo un'astronauta un'astronauta con l'apostrofo e quindi se volete ci sta ci si può scrivere magari qualcuno di voi lo venga a trovare perché non siete lontani dipende da se ci lasciano uscire se ci lasciano uscire esatto se no ci possiamo vedere attraverso questo mezzo fantastico ciao Alice ho visto anche Alice lì grande ciao Adriana due due belle foto non vedete non vedete l'ora di leggerlo mi raccomando la firma di Diego eh la firma di Adriana è Diego quindi secondo me è Diego chi lo sa chi è sarà il nonno di Adriana Manuela legge tutti i sabati vedi che non è banale Manuela è un'era di un certo livello Patti ci fa i complimenti e noi facciamo i complimenti a Patti siamo molto dobbiamo fare più di un sabato che dici benissimo allora buon sabato a tutti buone letture fateci sapere i vostri commenti le vostre le vostre idee che fanno sempre comodo e io teniamoci in contatto teniamoci in contatto saluto Andrea ringrazio un festival meraviglioso che ci ospita oggi proprio qui e quindi speriamo di esatto speriamo di poterci vedere a novembre davvero un abbraccio a tutti va bene buon sabato Sergio buon tutto a tutti ciao ciao ciao